Ciao veri credenti, bentornati alla nostra usuale posizione per quello che riguardano le puntate speciali di 40 anni nerd Finalmente sono finite le vacanze per cui ci ritroviamo di nuovo nel solito studio che adesso è sprovvisto di albero di Natale quindi possiamo dedicarci alle nostre chiacchierate senza più troppi problemi Vedete ancora una volta sono sprovvisto di cameraman perché la mia camera woman preferita personale nonché unica non c'ha voglia di riprendermi questa serata Andremo avanti in questo modo, scusatemi sono un po' fiacco perché di nuovo sono andato in palestra Ragazzi che fatica andare in palestra dopo il Natale, non fatelo o non mangiate tanto Natale, vedete voi Comunque diciamo che volevo sfruttare la possibilità di questa location per parlarvi di una nuova iniziativa del canale di 40 anni nerd che in questo caso non sarà più solamente dedicata alle video recensioni ma credo che sia arrivato il momento abbastanza maturo per fare un passo avanti quindi in questo caso sarebbe molto molto interessante cercare di capire dove vogliamo andare come canale e di che cosa vogliamo parlare Una delle idee che sto sviluppando e fondamentalmente si tratta di un modo come un altro per preparare qualcosa che sto anche trasformando in una specie di saggio è raccontarvi, provare a interessarvi a delle monografie sui personaggi della Marvel e della DC principali, sulla loro storia, sui loro aneddoti su qualcosa che insomma possa aver colpito tutti nel profondo più o meno a un certo punto della nostra carriera di fumettisti e quale personaggio migliore con cui cominciare se non i Fantastici Quattro Allora cerchiamo di fare un pochettino una cronostoria breve di quello che succede quando Stanley e Jack Kirby e poi sulla questione Lee e Kirby ci sarà da dirne di ogni modo decisero di sviluppare il Fantastico Quartetto All'epoca la Marvel, siamo nel 1961, non riusciva più a pubblicare i propri fumetti in maniera indipendente non si chiamava neanche Marvel Comics all'epoca, credo che fosse uno dei due nomi tra Atlas e Timely ed era addirittura distribuita dalla DC Comics quindi c'era un contratto in vigore tra le due adesso colossi dell'editoria fumettistica per cui la Marvel poteva essere distribuita ma non poteva pubblicare più di tante storie di supereroi ed è un po' la ragione per cui ci troviamo con tantissime fantastiche avventure western fantastiche avventure romantiche, Millie the Model, Kid 2 Pistoria, cose di questo genere ma non ci sono veramente supereroi di nessun genere però cosa succede? Succede che poco prima è iniziata quella che viene definita la Silver Age del fumetto per cui vengono pubblicati i fumetti della DC Comics in cui compare il secondo Flash, Barry Allen e si cominciano a vedere quelli che stanno per diventare famosissimi nel cinema, nell'universo DC e che sono i set della Justice League quindi il primo vero supergruppo dell'età moderna un gruppo in cui non comparivano tanti piccoli personaggi comprimari ma comparivano dei personaggi di massima caratura c'era Batman, c'era Superman, c'era Wonder Woman insomma un supergruppo così come poi dopo abbiamo imparato a conoscerli negli anni 70 e negli anni 80 cosa succede a questo punto? succede che la Marvel decide di cavalcare l'onda decide di trovare un modo anche lei di poter pubblicare qualcosa che possa portare al mondo dei fumetti tra le altre cose se volete un insight abbastanza divertente anche se poi con nomi e fatti fondamentalmente cambiati su questo tipo di storie vi consiglio di leggere le fantastiche avventure di Cavaliere Clay premio Pulitzer credo nel 96 scritto da Michael Chabon che parla proprio di una casa editrice che all'epoca aveva il compito di bissare il successo di Superman nell'ambito di quello che succede invece alla nostra Marvel in erba ci troviamo con un problema principale che è quello appunto di dover circunnavigare l'obbligo di dover pubblicare fumetti di supereroi ma di voler in ogni caso bissare il successo della Liga della Giustizia quindi che cosa viene in mente ai fanciulli prodigio della Marvel allora prendiamo un gruppo di supereroi però cerchiamo di renderlo simile a qualcosa di diverso da un gruppo quindi prendiamo a mente quali possono essere i simboli più tradizionali della cultura americana dell'epoca quindi c'era la scuola e ci arriveremo ma potete immaginare a chi faccio riferimento c'era il club e potete immaginare anche qui a cui faccio riferimento e poi c'era l'istituzione per definizione, la famiglia e vedete che siamo già a un passo avanti in più, e qui il concetto dei costumi è veramente importante anche perché c'è un precedente abbastanza interessante proprio l'opera di Jack Kirby nei fumetti della DC Comics non bisognava che fossero supereroi era interessante che avessero delle tute che potessero identificarli come diversi dal resto dell'umanità ma non fossero supereroi in maschera per cui quello che fa Jack Kirby, secondo me, che continua e continuerà per sempre a essere il re è prendere spunto da una serie a fumetti di ambito avventuroso che aveva pubblicato per la DC Comics che sono i Challengers of the Angno dove c'erano questi esploratori dell'ignoto che indossavano delle tute violace abbastanza pacchiane per la verità e le trasforma in delle tute d'astronauta blu perché quello che succede ai protagonisti dei Fantastici 4 è che cercando di vincere i russi nella guerra di propaganda per raggiungere la Luna provano a fare un viaggio che li trasformerà per sempre in quelli che poi saremmo tutti arrivati a conoscere come i Fantastici 4 quindi diciamo che preparano questo razzo sperimentale negli anni poi la storia è stata raccontata in tanti altri modi è stata posticipata, non si è più parlato della Luna si è parlato di esplorazioni nello spazio generiche fossi qualcuno che si occupa di dover raccontare la storia dei Fantastici 4 adesso e credo che a breve ne avremo veramente bisogno tirerei fuori il mito di Elon Musk e di Marte però diciamo che nell'universo Marvel Marte oramai è diventato un posto facilmente raggiungibile comunque morale della favola questa famiglia fa un viaggio nello spazio che finisce malissimo proprio perché il geniaccio che si occupa di fare i calcoli sbaglia qualche valutazione per cui tutto l'equipaggio composto da quattro persone prende delle radiazioni cosmiche in maniera massiccia precipitano e vengono sostanzialmente mutati chi sono i Fantastici 4? i Fantastici 4 sono quattro persone appunto c'è il capo famiglia la persona che si occupa di essere il proprio cervello della storia che è Reed Richards genio compreso, incompreso ma comunque tendente sempre a voler superare i propri limiti c'è la sua all'epoca fidanzata poi diventerà moglie Sue Richards anche se all'epoca è Susan Storm c'è il fratellino minore pensate che roba incredibile questi fanno un viaggio nello spazio lo scienziato si porta dietro fidanzata il fratellino minore che era a malapena maggiorenne Johnny Storm e poi c'è il pilota collaudatore che non è altro che Ben Grimm che era il compagno di college di Reed Richards ed era l'esatto opposto di quello che poteva essere Reed Richards tanto geniale e uno tanto pura forza brutta l'altro e qui basta che conosciate per bene i personaggi per capire un attimo che l'analisi di Stan Lee fatta nello sviluppare i poteri Stan Lee, Jack Kirby vai a capire è una profondissima analisi dei tempi pensateci un attimo bene quattro individui Mr. Fantastic diventato Reed Richards ha il potere di allungarsi di trasformare il proprio corpo in elastico eccetera eccetera Susan Storm diventa la ragazza invisibile quindi ha poteri di invisibilità e di poter creare i campi di forza Johnny Storm che è il ragazzino ha la capacità di diventare la nuova torcia umana quindi prendere fuoco volare con questo fuoco la cosa Ben Grimm diventa una struttura di un uomo di roccia fondamentalmente fortissimo e dall'aspetto non particolarmente piacevole pensate che razza di analisi della società del tempo queste erano persone che almeno nell'idea e nella cronologia del tempo erano nati immediatamente a ridosso della seconda guerra mondiale quindi stavano vivendo un boom economico ma vivono comunque in una società che era differente, patriarcale completamente ambientata su valori che erano più arcaici rispetto a quelli della modernità che poi sarebbe arrivata da lì a breve negli anni 60 poi abbiamo Reed Richards che è la persona che ha potuto studiare che ha un cervello elastico e la sua elasticità è trasferita nei suoi poteri nella sua capacità di spingersi oltre i limiti abbiamo la testa calda il ragazzino giovane che diventa una torcia umana vera e propria ma che in realtà rappresenta quella generazione che poi sarebbe stata la generazione del surf la generazione del rock and roll la generazione che si ribellava a tutto quello che c'era prima e poi abbiamo quella struttura granitica che fa parte proprio dell'est action hero dell'uomo di strada da marcia a piede che è Ben Grimm che mette a fuoco la sua forza brutta per diventare un elementale potente muscolare il vero sostegno di tutta la famiglia anche se poi è l'unico che non è imparentato con tutti la cosa più interessante è quella che succede a Susan Storm Susan Storm diventa la ragazza poi donna invisibile quindi un po' già di per sé rispecchia la struttura patriarcale dell'epoca della donna che deve essere invisibile rispetto a quello che gli uomini fanno ma la cosa ancora più interessante è che il potere di Susan Storm si evolve non è solo quello è quello di creare campi di forza invisibili quindi di proteggere il resto della famiglia secondo me questa analisi è estremamente interessante perché non stiamo più parlando di semplici supereroi che distruggevano tutto ma intanto sono personaggi con poteri completamente differenti e poi sono un'analisi ben precisa e dedicata di quello che poteva essere la cultura dell'epoca da lì a poco il successo della Marvel sarebbe stato stratosferico dal 61 al 64-65 nei primi 100 numeri dei Fantastici 4 l'intera mitologia dell'universo Marvel verrà messa in piedi credo che ci sarà tempo per parlarne con tutte le occasioni future per cui per il momento io vi saluto sarei curioso di sapere cosa pensate di questo nuovo corso e per il momento è tutto quindi ciao veri credenti e alla prossima